Un'iniziativa di un gruppo di genitori appassionati è stato il volano per l'organizzazione del primo quadrangolare di calcio a 5 femminile giovanile in terra ionica che si è svolto mercoledì sera in un centro sportivo di Taranto. La mission del gruppo genitori del calcio femminile Taranto, al momento un'associazione di fatto, nasce dall'esigenza di aggregare le giovani calciatrici presenti nel territorio tarantino per permetterle di allenarsi e conoscersi anche durante i mesi estivi quando le attività delle scuole calcio sono in vacanza. L'associazione spontanea di questi genitori è nata da un semplice gruppo whatsapp chiamato Summer Pink per l'organizzazione di partite ed eventi amatoriali dedicati alle quote rosa. Agli albori dell'estate le ragazze partecipanti sono lievitate da 7 a 20 suscitando un crescente interesse intorno al progetto. I genitori del calcio femminile di Taranto puntano forte sulle pari opportunità e sulla crescita del movimento nel nostro territorio quindi non più partite miste con i maschietti ma incontri dedicati esclusivamente alle giovani calciatrici anche alle neofite che vogliono semplicemente cimentarsi in questo sport in nome delle pari opportunità e dell'uguaglianza di genere. Il gruppo è presente sui social Facebook e Instagram con la denominazione partite di calcio femminile Taranto per l'organizzazione di incontri di calcio con cadenza settimanale. Questo primo quadrangolare organizzato grazie al supporto di Spartan Police e Tutto Sport Taranto ha visto la partecipazione delle squadre denominate Real Madrid, Barcellona Chelsea e Manchester City con il comune denominatore di Pink ed è solo il primo degli eventi in programma che proseguiranno anche nel prossimo inverno. Poco importa il risultato finale del torneo con sorrisi e premiazioni per tutte le piccole calciatrici resta in evidenza il bilancio estremamente positivo della manifestazione. Ho visto tantissime ragazze che si sono approcciate a questo sport anche i genitori che credo che hanno portato ovviamente le ragazze sono stato molto contenta, le ragazze sono state anche loro ovviamente molto contenti e hanno giocato in una maniera proprio impeccabile nel senso tutte quanti un gruppo, c'è stato un bel gruppo e spero che comunque sia tutto questo continuerà qui a Taranto, che questo sport crescerà.